C'è più attenzione per tutti i comuni, però i provvedimenti legislativi in questo momento non vanno in questa direzione. Non è la prima volta che stridono i ragionamenti, i contenuti e le riflessioni tra il Presidente della Camera e il Governo. In questo caso noi non possiamo che essere dalla parte del Presidente della Camera, però a noi le parole non servono più. Quindi ringraziamo il Presidente, tra l'altro ha detto delle cose anche belle. Quando stiamo nei dibattiti, ci incontriamo, c'è una sensibilità che è assolutamente comune, che lascia ben sperare per il presente e per il futuro, chiaramente. Quello che però fa male sono i provvedimenti di questo Governo. Il Salva Roma va esattamente nella direzione non del ragionamento del Presidente Figo, che ha citato i comuni e ha fatto alcuni esempi di città. Quando tu interveni per l'ennesima volta solo su una città, quello è un fatto. E tra fatti e parole, alla fine i sindaci devono avere a che fare con i fatti, non solo con le parole. Le parole possono rincuorare il cuore, ma noi con il nostro cuore grande in questi anni vedete dove siamo arrivati. Adesso, come ho scritto nel posto di oggi, al Governo ci limitiamo a chiedere molto poco, perché noi abbiamo capito che questi, comunque i governi nazionali, poco fanno per la città di Napoli e per il Mezzogiorno. Due cose ho chiesto, basta discriminazioni e disuguaglianze e sicurezza. Rispetto a quello che ha fatto Napoli in questi anni è davvero poco poco. È come se noi avessimo realizzato montagne, a loro chiediamo un piccolo topolino per la nostra città.